Buongiorno, buongiorno. Io non mi vago buttare l'osso sopra un letto perché non mi sento tanto me, però oggi è il minimo, ti saluto. La giomina, 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 la giomina. No, 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 la faccio da solo. Venerdì 26 agosto vanno in onda loro gli indimenticabili e questo nome noi lo prendiamo quasi come una promessa. Eh sì perché allora questa compagnia è una compagnia di Amandola in provincia di Fermo e io sono un loro rappresentante e si esibiscono su varie piazze e teatri della nostra regione e anche al di fuori con commedie dialettali e sketchi comici. Qual è il titolo dello spettacolo che portate in scena? Lo spettacolo che faremo qui il 26 agosto alle 21 e 30 è una commedia dal titolo Male una e Peglio l'altra in dialetto fermano. È una commedia in un unico atto comica e è una delle più belle commedie che si è viste in qualsi ultimi anni, in questo nostro paese. E allora diciamo agli amici di Fano TV diamo loro un valido motivo per venire a vedere gli indimenticabili. Come no, altrimenti rimborserò io il prezzo del biglietto. Grazie. Eh Margheri tu purtroppo ci si muovono questo tutto. Ah, non è tu? Eh guarda, sai come si dice? Oggi a essa domate... Oh ma? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Grazie.